buongiorno sono urbano della salle moreno volkswagen audi di fucecchio oggi vi presento la nuova arrivata nel nostro parco vetture usate si tratta di questa bella volkswagen golf serie 7 attenzione 1.400 a metano quindi la versione tg con l'impianto a metano originale volkswagen 1.400 110 cavalli allestimento comfort allora intanto da queste immagini potete notare come stata tenuta la carrozzeria esterna che si presenta veramente in modo eccellente eccola qua di questo bel grigio ha crescita metallizzato a livello di accessori cerchi legati a 16 pollici i suoi ordicinali sensori di parcheggio posteriori e anteriori fari di nebbia quindi una macchina anche completa internamente troviamo la sua tappezzeria anche questa molto bella tra l'altro il precedente proprietario non fumava quindi non ci troviamo comunque di sigarette non ci troviamo strappi non ci troviamo usure come il nostro solito è stata lavata ed igienizzata a vapore perché internamente le auto devono essere come diciamo sempre come casa nostra pulite belle profumate abbiamo tra l'altro l'autoradio con il cd touch come potete vedere il suo climatizzatore manuale cambia a 6 marce solamente 105 mila chilometri tutti tra l'altro tagliandati presso il nostro punto assistenza volkswagen quindi una macchina controllata al cento per cento chilometraggio originale tra l'altro cruise control quattro vetri elettrici quindi una macchina veramente eccezionale per consumare veramente poco 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 un pieno di metano siamo a circa 15 euro e si fanno almeno 300 chilometri quindi veramente eccezionale con prestazioni eccellenti e perché una macchina 110 cavalli turbo questa vettura è già disponibile per la vendita quindi potete già venire a vederla a provarla quindi telefonare per un appuntamento possibilità di pagamenti rateali a tassi agevolati quindi un eventuale acquisto a 360 gradi tra l'altro potete andare sul nostro sito diretto autosani.it troverete tutte le spiegazioni più precise e dettagliate su questa vettura e su tutte le nostre altre proposte sull'usato e sulle vetture aziendali visitatelo perché è molto bene quindi ricapitolando una vettura bella economica con pochi chilometri e unica perché ce ne sono veramente poche di macchine in questo modo a questo punto vi ringrazio per l'attenzione vi aspettiamo presto il nostro punto vendita di Fucettio e come diciamo sempre alla prossima vettura